E' uno strumento importante per lo sviluppo sostenibile e inclusivo, in particolare in stati fragili o in situazioni post-conflitto. L'UE può e deve contribuire allo sviluppo di strutture di governance per ciascun paese partner, non solo in vista della riduzione della corruzione, ma anche per implementare regole socialmente condivise e rispettate, per avere una migliore coesione sociale e una condivisione anche più equa delle risorse e della ricchezza tra i diversi gruppi sociali. Il rispetto dei diritti umani, in particolare quelli delle minoranze, il diritto alla libera espressione e l'indipendenza del potere giudiziario sono spesso una questione spinosa nelle relazioni con i paesi partner. Credo che il Parlamento sia cosciente che il rispetto dei diritti umani e il dialogo politico non siano stati sempre considerati o applicati. La condizionalità avrebbe dovuto essere rinforzata attraverso l'agenda per il cambiamento, ma gli aiuti in realtà sono stati raramente interrotti. Forse perché l'UE ha temuto di perdere autorevolezza e influenza politica rispetto ad altre potenze. Come intende agire a questo riguardo? Intende assumere come nuovo commissario un atteggiamento flessibile su questo argomento o farà della condizionalità una priorità? Conta di instaurare un efficace programma di monitoraggio sull'approccio basato sui diritti in tutti i programmi di cooperazione allo sviluppo? Grazie. La Commissione europea ha in effetti, più che ogni altro donatore direi, ha introdotto questa correlazione o anche condizionalità tra diritti umani, buona governance, sviluppi democratici, legalità nei paesi riceventi come parte del pacchetto complessivo della cooperazione per lo sviluppo sostenibile e del dialogo politico con i paesi e i partner. Siamo dei leader veramente sotto questo aspetto. Io farò del mio meglio per sviluppare una posizione comune europea che possa passare più facilmente alle conferenze internazionali, nei forum internazionali, cercando di creare una piattaforma comune per tutta la comunità dei denatori. Per quanto riguarda le nostre azioni concrete a livello di condizionalità, seguirò sicuramente il processo che si fonda sugli accordi attuali, in modo particolare sull'accordo di Cotonou. Saremo più pronti e disposti ad attivare un dialogo politico in base all'articolo 8 dell'accordo di Cotonou. Già ci sono alcuni buoni esempi dove questo dialogo politico in realtà ha fatto la differenza o ha anche convinto diversi paesi beneficiari a ritirare alcuni atti legislativi, per esempio sugli LGTB in Uganda e Nigeria sulla schiavitù in Mauritania, per esempio. Questo sarà un primo passo. Un secondo passo è collegato all'eventuale sospensione dell'aiuto in base all'articolo 96 che richiede più discussioni bilaterali, ivi compreso con il Parlamento europeo, per dare la risposta politica giusta per avere la prosecuzione dell'assistenza, ma non tramite i canali governativi, ma tramite coloro che direttamente hanno effettivamente bisogno di questa assistenza.